Il mio senso è argentino, ecco, non si capisce, è appassionato di rafting, è una domanda, un spagnolo, chiaramente, televista, è per albio. Non possiamo, domani hanno il pomeriggio libero, ma non abbiamo deciso di non fare il rafting perché qualche volta sono un po' stanchi, cambiare un po' l'attività e loro devono decidere cosa vogliono fare, non mi dispiace, ma non è così, quest'anno non si può fare il rafting. La domanda del Marcellano, devo dire, chi va a fare la prossima domanda? Aspetta, aspetta, no, lui no, che non mi serve, un altro, vado, vai, 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 posso seguire? Solo per dire, per spiegare perché questa o questa, me la fanno un'altra volta e io la scrivo, il prossimo, ma non il ragazzo, un altro, chi viene, dai, il prossimo che farà una domanda, sei sposato o no? Sì, vieni con me, tutti chiamati, Gianfranco, Gianfranco, Gianfranco è sposato, adesso il corrispondo alle mie te dico, tu sei il divorzato della tua moglie? Sì, adesso, attento, ti piacerebbe cambiare la tua moglie? Dai, sinto. Lui è innamorato della sua moglie Ma se vuole cambiare la tua moglie per un'altra Diciamo Claudia Schiffer Te piacerebbe? Stai zitto Noi diciamo Vogliamo cambiarla o no? Vogliamo marcellarla o no? La prima cosa Siamo innamorati della nostra moglie Che sono i nostri giocatori Vogliamo cambiare per Claudia Schiffer? Stai zitto Diciamo che puoi darsi Ma dipende della tua moglie Come non sappiamo e non possiamo dire niente Sei contento con la tua moglie? Aspettiamo il mercato E stiamo sempre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.